Parleremo di tanti temi, parleremo anche e soprattutto di Spazio Europa e lo facciamo inizialmente con due colleghe che sono Federica Savino, ciao Federica, buon pomeriggio, e con Giulia Saviozzi, ciao Giulia, benvenuti, che faranno delle domande a Gabriella Leonardi, Gabriella Leonardi alla quale io do il benvenuto, che è la coordinatrice della segreteria organizzativa proprio dello Spazio Europa. Grazie, ciao a tutti. Salve, prima di lasciarla alle domande delle colleghe volevo proprio chiederle concretamente che cos'è questo Spazio Europa, proprio per farlo capire a chi ci sta ascoltando. Allora sì, lo Spazio Europa è uno spazio proprio fisico ed è cogestito dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e dal Parlamento Europeo, l'Ufficio di Informazione in Italia. È uno spazio particolarmente dedicato ai giovani cittadini europei, c'è anche una targa che dice questo dentro lo Spazio Europa ed effettivamente si fanno attività con i giovani e anche poi con gli adulti, insomma, si ospitano anche eventi. Io voglio sapere in concreto Spazio Europa, quindi come struttura questi incontri con gli studenti, i bambini, i ragazzi, quindi in concreto cosa fate? Ok, allora in concreto, proprio in soldoni, diciamo noi abbiamo dei contatti ormai perché è dal 2009 che è aperto con scuole e con professori perché noi qua effettivamente non facciamo solo attività con i ragazzi, con gli studenti ma anche con i docenti. E cosa ne pensa del fatto che l'Italia comunque sia uno dei paesi alla fine che hanno minor libertà di stampa? Ecco, i giornalisti probabilmente hanno qualche difficoltà a esprimersi in maniera corretta e giusta. Uff, questa è una domanda molto complicata. Prima di tutto non c'è solo un problema di libertà di stampa in Italia, c'è anche un problema di giustizia perché sui temi della giustizia l'Italia si trova anche nel fanalo di code dei paesi europei. Questo viene da tantissimi fattori. Il primo è il livello di, diciamo, di conoscenza dei giornalisti. Il secondo è la problematica della proprietà del capitale, diciamo, dei giornali. Ma questo non è specificamente un problema italiano perché si parla molto, per esempio, di libertà di stampa in America o in Inghilterra, ma i problemi sono gli stessi. Se tu appartieni a un giornale che appartiene a un grande gruppo, non farai mai un'informazione contro il gruppo che finanzia il tuo giornale.